aiaia aiaia amore metto dieci minuti sotto la lampada è vero metti la crema solo il viso mamma mia soluzionato niente manco mezza lampada pazzesco cosa diventare mamma mia comunque qui in ottica futura in ottica della bimba c'è un problema perché rosa è uscita quindi ho dato da mangiare io a chino come nei pomeriggi e lui il pomeriggio con me mangia solo se gli metto la sottiletta mentre con rosi muto e mangia le crocchette normali io gli metto giù le crocchette mi guarda mi fa tenerezza e gli metto la sottiletta gourmet poi tipo sparsa quindi stavo pensando se con il cane sono così figuriamoci con mia figlia devo fare un corso di non lo so per noi andrea zenga sarà un ottimo papino è davvero buono è un ottimo ragazzo un ottimo compagno per osalinda ed eccola qua vi lascio con lei ciao